... Il padre è detto che hanno messo il processo di lavorare in particolare e abbiamo fatto un lavoro che avevo vi risposto per lo sognostrato, per lo sognostrato. Non lo sognostrato. Quindi, adesso, nell'anno dato che ci siamo non sognostrato. No, prima di tutto. Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.